Contro l'inquinamento il comune corre ai ripari. Nel 2015 le centraline hanno rilevato che in città i livelli consentiti di polveri sottili sono stati superati circa 30 volte. Per evitare di raggiungere il limite di 35, Palazzo di Città è pronta ad emanare una ordinanza che prevede targhe alterne e tutta un'altra serie di misure. Si parte la settimana prossima, inevitabili disagi e polemiche soprattutto da parte dei commercianti. L'ordinanza accade infatti proprio al ridosso del Natale quando in molti raggiungono il capoluogo per fare acquisti ma per l'assessore con delega all'ambiente si tratta di una scelta obbligata a tutela della salute pubblica. L'ordinanza è stata presentata dall'assessore Preziosi e dal comandante dei vigili Arbonio. Da lunedì dobbiamo iniziare a fare una politica un poco più restrittiva. In questo momento stiamo un attimo studiando anche con il comandante Arbonio la migliore ipotesi che non significa però tartassare i commercianti perché in questo momento mi vengono in mente soprattutto loro perché anche dieci giorni fa abbiamo fatto un incontro con i commercianti fatte anche delle promesse però in questo momento per quello che sta succedendo non possiamo mantenere perché gli sforamenti ci stanno e quindi da lunedì dobbiamo cercare di fare qualche azione un po' correttiva e importante. Vi ripeto vediamo un attimo di fare qualche giorno di targa alterne qualche l'ordinanza almeno euro 3 euro 4 euro 5 quindi le macchine un po' diciamo più datate non possono circolare. Queste sono le cose che dovremmo fare a breve per evitare problemi sicuramente problemi che ci saranno nel momento in cui supereremo la soglia dei 35 sforamenti nell'anno. è una scelta dovuta a tutela della salute pubblica pertanto abbiamo dovuto necessariamente a seguito dei parametri ARPAC che ci pervengono attivare questa decisione ripeto sofferta si attiveranno quindi le targa alterne ai barchi della città ci saranno gli operatori della polizia municipale a verificare il rispetto del dell'ordinanza. I primi giorni una evidente come abbiamo sempre fatto una tolleranza nel consentire appunto di lasciare le aree interessate del centro città a chi non era a conoscenza della dell'ordinanza per poi seguirà una fase più operativa di sanzioni. Grazie. Grazie.